Oggi siamo qui perché va online il sito di Pagma 2020. È un sito manifesto, un sito in cammino, come siamo in cammino noi, che lascia vedere quello che è successo nei mesi che ci hanno portato a questo traguardo e soprattutto riesce a farci capire quello che accadrà nei prossimi mesi. È un sito che nasce dalla collaborazione del territorio, così come il programma di Parma 2020. Sono arrivati contenuti, immagini, fotografie, tutto per costruire una piattaforma partecipata. E partecipato sarà il cammino di Parma 2020 e questo sito sarà il suo specchio. Su questo ci potrete seguire. Vi aspettiamo allora all'indirizzo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 perché anche questa è l'occasione di cominciare davvero a condividere questo grande progetto. Grazie per la visione!